Ciao, sono Fabio Mazzurana, lavoro in Sony da parecchi anni, mi occupo in particolare del mercato corporate educazione. Stiamo seguendo con molta attenzione i temi legati al workspace management e al building management. Per la parte educational siamo molto focalizzati su temi come le lezioni attive, come l'actor capture e come la creazione dei contenuti video coinvolgenti e multimediali. Per la parte corporate abbiamo annunciato la versione 2.0 di Teos Manage, che è la nostra piattaforma per il workspace management. La versione 2.0 porterà molte significative miglioramenti e novità sulla piattaforma, in particolare legate alla gestione dell'applicazione mobile per i dipendenzi. Si andrà inoltre sensibilmente in direzione del building management attraverso l'interazione e l'integrazione in Teos di sistemi di controllo di sale, di ambienti e di lavoro. Uno spunto legato al mondo educational, il Miris Net Capture, consente di avere in aula un'interazione e cattura delle lezioni diminuendo o riducendo il numero di componenti di hardware installati in ogni singola aula e quindi riducendo in maniera sostanziale l'investimento richiesto all'università per implementare queste funzioni in maniera distribuita e diffusa. A ISE è stata l'occasione di presentare alcuni prodotti nuovi, in particolare due nuovi modelli di videoproiettori laser da 5500 a 6500 lumen che implementano lo stato dell'art sui proiettori laser, in particolare dei nuovi pannelli LCD con una funzione di concentratore ottico che aumenta in maniera molto marcata il contrasto e rende l'esperienza visiva con questi proiettori estremamente soddisfacente. Implementano anche la reality creation che è un algoritmo mutuato dai proiettori 4K per l'OMCINEMA che consente di aumentare, di risolvere al meglio il dettaglio delle immagini. Per quanto riguarda la parte monitor c'è stata l'ulteriore conferma della gamma ormai molto ben conosciuta del monitor barrio B2B che è sviluppato dai tagli da 43 a 85 pollici che avranno nel corso del 2019 sviluppi ulteriori punti di attrazione.